Nei momenti difficili ciascuno è chiamato ad andare oltre l'orizzonte dell'egoismo, superando gli interessi particolari in vista del bene comune. È la riflessione contenuta nel discorso che Papa Francesco ha consegnato ai Viscovi del Mali, ricevuti in occasione della loro visita ad limina apostolorum. Nel testo il Pontefice evidenzia l'importanza del dialogo interreligioso e della promozione della tolleranza e della coesione, soprattutto nella situazione delicata in cui versa il paese africano. Dinanzi alle violenze degli ultimi anni, i cristiani sono dunque chiamati ancora più a rendere testimonianza della propria fede, lavorando per un'autentica riconciliazione nazionale. Tra i pensieri di Papa Bergoglio, anche la difesa della famiglia, soprattutto vista la diffusione del divorzio e della poligamia.